Ciao, buongiorno, sono Alexandra. Oggi siamo a Castel Gandolfo, la residenza estiva del Santo Padre ed è una giornata molto tranquilla, molto bella, il Palazzo Apostolico adesso è chiuso, il sabato sono previste delle visite, io svolgo delle visite anche nella città di Castel Gandolfo, a volte andiamo anche, scendiamo giù al lago, che è un bellissimo lago vulcanico della città. Grazie.